C'è la Confcommercio in prima linea tra le associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali che hanno promosso per il prossimo 7 novembre la grande manifestazione regionale di protesta contro il caro energia che ha messo in ginocchio attività commerciali, imprese e lavoratori. Dal grido di allarme si è passati al grido di disperazione, dichiara al nostro telegiornale il presidente provinciale di Confcommercio, Giuseppe Caruana. L'avevamo già annunciato, l'avevamo descritto come tre momenti, il momento in cui c'è stato il grido d'allarme, il momento in cui c'è stato il grido d'aiuto e il momento in cui adesso siamo nel grido di disperazione perché non è più una situazione sostenibile. Per questo assieme alla Confcommercio regionale, quindi a tutte le federazioni provinciali e soprattutto grazie ad un coordinamento regionale di tutte le sigle sindacali, datoriali e dei lavoratori, sarà una occasione per stare tutti assieme, datori di lavoro e dipendenti. È stata concordata per il giorno 7 novembre questa grande manifestazione a livello regionale che verrà appunto impegnati diversi presidi nella Sicilia, tra Palermo e Catania, ma comunque si tenterà di scendere diciamo nelle piazze principali e fermare la Sicilia. Dobbiamo fermare la Sicilia, probabilmente ci saranno anche delle ripercursioni a livello nazionale perché già stanno arrivando le prime adesioni anche da altre regioni del sud, si fermerà quindi buona parte dell'Italia. Bisogna dare questo segnale perché probabilmente ancora non si è compreso qual è la gravità della situazione che si sta vivendo all'interno delle imprese e delle famiglie perché il problema investirà tutti e l'epilogo è segnato se non ci saranno interventi urgenti, straordinari e cospicui rispetto a quella che è la situazione attuale. Confcommercio che poi valuta positivamente l'incontro che si è svolto ieri a Sciacca nell'Aula Consiliare, promosso dal Presidente del Consiglio Comunale, Ignazio Messina, su richiesta della Commissione Consiliare Attività Produttive. Noi alla Presidenza del Comune di Sciacca che attraverso la Commissione Attività Produttive è stata sensibile a volerci convocare di propria sponte quindi ne siamo lieti, chiediamo alla fine di stare vicino alle imprese anche con piccoli segnali che possono sembrare piccoli ma sono grandi in questo momento perché avere la possibilità di discutere anche della difficile insostenibilità delle tasse comunali che negli ultimi anni abbiamo visto essere diventati buona parte di quelle che poi paghiamo a livello nazionale e quindi intervenire su TOSAP, IMU, sui tributi locali di pertenenza appunto dell'amministrazione comunale, sul suolo pubblico, sull'esonero del pagamento del suolo pubblico per fare in modo che le attività possano diciamo meglio fruire di spazi all'aperto e quindi fare la propria giusto business, allora questo diventa un modo anche per aprire e per dialogare con le amministrazioni per farci sentire che loro sono vicini a noi e per sgravare di qualche economia in modo che si possa pagare la bolletta prossima che è già in scadenza.